Il futuro dell'agricoltura nell'area mediterranea passa in primis dall'alta formazione, come quella offerta dal Sian Bari. Lo sviluppo del settore primario passa dall'implementazione delle conoscenze e delle tecnologie, un'esigenza sempre più urgente per i paesi dell'area mediterranea alla luce dello stato attuale, caratterizzato tra le altre cose dall'incertezza climatica. All'agricoltura non bisogna solo riconoscere il ruolo primario e fondamentale di produzione alimentare, ma soprattutto oggi anche il ruolo di governo del territorio, di mitigazione dei cambiamenti climatici, di valorizzazione e tutela della biodiversità e di presidio contro i disastri ambientali. Ed è per questo che uno strumento importante e necessario è quello di una meccanizzazione agricola moderna, innovativa, smart e digitale, per contrastare quello che è il fenomeno nel Mediterraneo di una erosione continua delle risorse naturali più importanti, acqua e suolo. L'importanza della cooperazione internazionale per lo sviluppo delle aree rurali del Mediterraneo è stata tra i temi portanti di Agrilevante 2023. Diverse le iniziative messe a punto nell'ambito della rassegna dal Centro Internazionale di Altistudi Agronomici Mediterranei di Bari. Noi siamo veramente lieti di aver dato anche un contributo, invitando tante delegazioni estere a partecipare a questa esibizione, attraverso naturalmente i nostri progetti di cooperazione internazionale. Tra i paesi maggiormente attenzionati in occasione della Kermess, quelli del Nord Africa. Boom demografico, bassa produttività, livelli tecnologici inadeguati, scarsità di terreni agricoli coltivabili, richiamano con forza la questione della sicurezza alimentare. Un tema non più rinviabile al quale si cerca di dare risposte immirate a partire dal trasferimento della conoscenza basata sulle reali esigenze dei territori. Il Sian Bari sviluppa tante attività di formazione, sia qui presso il nostro campus che nei territori in cui operiamo, attraverso master della durata di due anni e attraverso corsi di alta specializzazione che vengono erogati presso la sede di Bari e presso la sede di Tricase. I corsi riguardano le tematiche più interessanti per il Nord Africa e vanno dall'agricoltura biologica alla gestione sostenibile del suolo e dell'acqua, ancora all'innovazione e all'impeditoria giovanile. Riguardano tutti i temi che servono ai territori per lo sviluppo delle comunità locali. I nostri studenti frequentano e vivono la vita del campus per due anni, preparando anche una tesi sulle tematiche più importanti e poi tornano nei loro territori dove raggiungono ruoli importanti a livello professionale e possono applicare quello che hanno imparato qui in istituto. Resta sempre un contatto molto forte con il nostro istituto e il sostegno per qualsiasi necessità loro abbiano. Sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e utilizzo razionale della risorsa idrica tra i temi salienti di Agri Levante. Una sfida complessa da affrontare puntando sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica. Il nostro istituto si sta muovendo proprio in questa direzione. Per esempio, di solito noi ci preoccupiamo sempre del fatto che l'acqua è poca, l'acqua è molta. Non basta soltanto questo. Bisogna vedere anche come l'acqua disponibile viene poi utilizzata. Io dico sempre ai miei studenti, noi diciamo che dobbiamo irrigare le colture. In realtà il processo non è quello. Noi l'acqua non la somministriamo, non la iniettiamo direttamente nella pianta. Noi l'acqua la somministriamo al terreno, che funziona come un serbatoio, e poi la pianta prende l'acqua dal terreno attraverso un sistema che è molto simile a quello delle pompe. Quindi immaginate questo serbatoio che si svuota e che si riempie. Se io somministro l'acqua quando il serbatoio è pieno, quell'acqua in più che vado a dare la perdo. La perdo completamente. Poi possiamo discutere sul significato della parola perdita, però intanto non serve per la coltura che sto irrigando. Viceversa, se io non somministro acqua quando il serbatoio è vuoto, cioè quando il terreno ha bisogno di essere irrigato, la coltura reagisce ad una condizione di stress idrico e reagisce attraverso una riduzione della resa. Cioè anziché ottenere 100 kg da quella pianta, ne otterrò 70-60. Dipende dalla condizione di stress a cui sottopongo la coltura. Quindi vedete che in quest'ottica è estremamente importante sapere quando somministrare l'acqua. Ci sono una serie di sensori che possono essere messi nel terreno e noi stiamo lavorando molto su questo, su sensori a basso costo, perché poi ci dobbiamo sempre scontrare con la realtà. Devo essere sensori a basso costo facilmente utilizzabili che forniscono informazioni in tempo reale.